Grandissimo risultato sportivo, quello del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Arezzo Gasbarri, alle finali mondiali di tiro con l'arco di campagna effettuato a Cortina d'Ampezzo dal 3 al 9 settembre. L'atleta del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, vestendo la maglia della nazionale italiana David Bianchi, è riuscito, dopo una lotta estenuante, fino all'ultima freccia ad aggiudicarsi la medaglia d'argento classe Arco Nudo Juniors maschile. Un risultato formidabile, visto che David Bianchi partecipava per la prima volta ai campionati del mondo. La settimana del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Arezzo è stata conclusa con il bronzo conquistato al campionato regionale toscano da Chiara Romboli, categoria Arco Compound Signores Femminile. Prosegue dunque la gloriosa storia del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Arezzo, da sempre ricca di successi e di talenti.